ciao a tutti oggi vi presento una nuova palette eccola qua si chiama easy shapes e chiaramente come indica il nome da una mano con i livelli forma gli shape layer appunto prima di iniziare però due parole su come si installa la palette in after effects innanzitutto una volta che avete scaricato il file zip dal link che trovate nella descrizione del tutorial lo aprite con un doppio clic vi trovate una cartella aprite la cartella e prendete tutto quello che c'è dentro cioè lo script easy shapes gsx e la cartella associata e li trascinate nella cartella script ui panels che si trova dentro la cartella script del vostro after effects quindi li prendete così e li trascinate qua dentro ovviamente io ce li ho già quindi evito di farlo una volta che avete installato questi due file riavviate after effects nel caso sia già avviato e poi vi trovate la palette easy shapes nel menu window nella parte bassa eccola qui easy shapes bene prima di procedere con la spiegazione dei pulsanti mi soffermo un attimo sull'aspetto della palette come vedete è divisa in quattro sezioni e ogni sezione ha lo sfondo con un colore diverso ecco se invece preferite non avere questi sfondi colorati ma mantenere lo sfondo grigio uniforme su tutta quanta la palette basta che clicchiate su questo pulsantino mg che si trova qui in fondo naturalmente se ci ricliccate di nuovo tornano di nuovo i quattro colori di prima allora incominciamo dalla prima sezione shapes che ha come vedete quattro pulsanti che ovviamente non servono ad altro che a creare rapidamente queste quattro forme cioè una linea orizzontale un quadrato un cerchio e un triangolo e con i due controlli qua in alto si possono anche impostare la lunghezza e il colore delle forme per esempio se noi clicchiamo sul primo pulsante quello per generare una linea orizzontale disegniamo una linea orizzontale qua al centro della composizione di lunghezza 500 come è impostato qua e di colore grigio come è impostato nella palette colore bene elimino questo shape layer dalla timeline se invece volessi una linea lunga per esempio 1000 e di colore rosso basta che imposto il 1000 qui nella casella dimensioni e apro la palette dei colori e imposto il colore rosso benissimo a quel punto quando clicco di nuovo sul pulsante della linea crea una linea orizzontale lunga 1000 e di colore rosso cancello di nuovo la linea bene adesso con il secondo pulsante generiamo un quadrato magari lo facciamo un po più piccolo di lato magari 400 e di colore facciamolo blu bene quindi clicco sul pulsante quadrato e crea un quadrato di lato 400 di colore blu eliminiamolo di nuovo in più se teniamo premuto il tasto alt mentre clicchiamo sul pulsante del quadrato allora anziché un quadrato pieno abbiamo soltanto il contorno di un quadrato le dimensioni e il colore però rimangono sempre quelle impostate qua su in alto quindi ripeto se clicchiamo normalmente generiamo una forma piena e se invece clicchiamo con il tasto alt generiamo il contorno della forma e lo stesso raggiunamento naturalmente vale per il cerchio per il triangolo proviamo clicco sul bottone cerchio e si crea un cerchio pieno mentre invece se tengo premuto il tasto alt creo il contorno di un cerchio e proviamo anche il triangolo clic semplice triangolo pieno e clic col tasto alt il contorno di un triangolo bene passiamo alla seconda sezione la sezione caps che gestisce l'aspetto delle estremità di una linea quindi innanzitutto ci serve una linea su cui lavorare in questo caso creiamo una linea lunga facciamo ad esempio 600 e lasciamo pure il colore blu quindi clicco sul pulsante linea aumentiamo un po con lo spessore della linea con questo numero qua su in cima ecco direi che così si vede meglio bene zoomiamo un po di più sull'estremità della linea come vedete la linea al momento viene troncata precisamente dove termina il tracciato della linea e questa situazione la ottengo se uso il primo pulsante della sezione caps quindi se clicco qui naturalmente non cambia nulla se invece uso il secondo pulsante questo allora cambio l'aspetto dell'estremità anziché troncata o l'estremità arrotondata ovviamente questo vale anche per l'alta estremità il terzo pulsante invece crea una situazione diversa cioè tronca la linea ma un po più avanti rispetto a dove finisce il tracciato e se riclicco sul primo pulsante la linea torna di nuovo troncata esattamente dove finisce il tracciato bene passiamo alla terza sezione joins che gestisce l'aspetto sugli angoli di una linea cioè sui punti interni a una linea quindi se li vogliamo vedere in azione abbiamo bisogno di un angolo su questa linea per crearlo basta prendere lo strumento pennino aggiungere un punto intermedio alla linea e spostarlo per esempio qua su in cima questo è un angolo e come vedete al momento l'angolo è appuntito cioè non ha smussamenti e questo è l'aspetto che ottengo se clicco sul primo pulsante di joins se invece clicco sul secondo pulsante l'angolo si arrotonda e se clicco sul terzo pulsante viene troncata la punta dell'angolo e se riclicco sul primo pulsante torna come era all'origine benissimo eliminiamo di nuovo la linea e passiamo all'ultimo pulsante trim paths trim paths è quella proprietà che simula il disegno di una linea in questo caso magari creiamo una linea molto più lunga per esempio 1500 pixel di lunghezza e come colore lasciamo pure blu quindi generiamo una linea e magari la facciamo un poco più curva quindi di nuovo con lo strumento pennino magari aggiungiamo un paio di punti questa volta però non mi limito a cliccare ma clicco e trascino in modo tale che compaiono anche le maniglie per curvare il tracciato bene a questo punto magari lo spostiamo qui poi ne creiamo un altro un po più avanti e lo spostiamo magari qua giù in basso così in questo modo qua perfetto come dicevo questo pulsante aggiunge a questa linea la proprietà trim paths e probabilmente vi ricordate che il trim paths è una di quelle proprietà che all'occorrenza va aggiunta manualmente dal menu add che trovate a fianco alla sezione contents cioè aprendo il menu e selezionando trim paths da qua ecco se noi invece clicchiamo sul pulsante trim paths come vedete dentro contents viene creata automaticamente la proprietà trim paths e non solo se apriamo anche i parametri di trim paths notate che vengono creati due keyframe sulla proprietà AND che animano il disegno della linea dall'inizio alla fine quindi il pulsante trim paths non solo crea la proprietà trim paths ma mi aggiunge anche due keyframe alla proprietà AND che è quella che va solitamente animata per simulare il disegno della linea benissimo ultima cosa sempre riguardo a trim paths se durante il clic sul pulsante trim paths teniamo premuto il tasto ALT allora vengono creati anche due keyframe sulla proprietà START che servono a cancellare la linea facciamo una prova seleziono il trim paths e lo cancello mi metto con il cursore nel punto in cui voglio che cominci l'animazione per esempio in questo punto qui tengo premuto il tasto ALT e riclicco sul pulsante trim paths vado a vedere i keyframe che sono stati messi come vedete ce ne sono due su AND e un po più tardi due su START se facciamo una preview vediamo che la linea si disegna e si cancella e noi sappiamo che più avviciniamo la coppia dei keyframe di START a quelli di AND e più si accorcia il segmento di linea che scorre lungo il tracciato mentre se li allontaniamo il segmento si allunga benissimo il tutorial finisce qua e sperando che questa palette possa tornare utile anche nei vostri progetti vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao